La scorsa notte, dopo la segnalazione dell'antifurto, due autopattuglia di guardie giurate di Vittoria sono intervenute per la verifica di locale di un negozio di fitofarmaci, riscontrando che ignotti si erano introdotti all'interno, sfondando con l'auto gli infissi d'ingresso. I vigilanti hanno notato anche che a loro arrivo, sull'obiettivo da ispezionare, un'auto bianca si era allontanata a forte velocità e, di conseguenza, dopo aver avvisato la centrale operativa e il commissariato di Vittoria, una pattuglia è rimasta vicino al negozio, mentre l'altro ha seguito l'auto a sospetta. Quindi, in sinergia con gli agenti, locali e commissariati, in poco tempo la zona è stata cinturata e, infatti, i magriventi si erano subito sbarazzati, il registratore di cassa rubato al negozio e poi ritrovato dalle guardie giurate lungo una stadina di campagna, nei pressi di Contato Arcerito, poco distante, anche la Fiat Panda Bianca con le portiere aperte, ma non c'era nessuno dei dintorni. Poco dopo gli agenti e il commissariato sono arrivati sul posto, ritrovando all'interno dell'auto il contenuto del registratore di cassa, compreso alcuni assegni. L'auto è stata posta sotto sequesto mentre le indagini proseguono in modo serrato.